INTRO Bentornati sul canale di Axios 00 Bentornati in un episodio di questa avventura di Minecraft Di questa mappa Catastrophic Pandemonium Allora siamo Creepy Caverns Quindi veniamo un po' di procedere Tra l'altro gattino, lei non mi segue più, ok perfetto Se n'era andato un attimo, ho detto Dove è finito il mio gattino da riporto? A questo punto No! Ok E' accaduto un panda praticamente in un buco delle caverne E quindi ci dovrà essere un modo per recuperarlo In qualche maniera Ora, in via del tutto teorica di qui non si passa Mi sembra Quindi dovrò vedere di recuperarlo in altro modo Quanto staremo a volare di sotto noi stessi? Aspetta un... No, 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 brutte Brutti zombie Brutto spawner tra l'altro Noi procediamo tranquillamente Allora E' Baby Che è volato da questa parte Voi mi avete fatto presente anche chi di voi ha provato la mappa Che c'è una zona da platforming Dalla parte dell'isola quella... dell'isolotto quello ghiacciato Quanto starò a volare nella lava? Che vorrei appunto provare a vedere di fare più avanti Gattino Eeeh... Do... Dove è passato? Da dove è passato lui? Perchè tu sì io no? Perchè ci potevo passare anch'io? No, io non ci passo di qui E' però furbo lui Ok Allora Hall crouch to climb down scaffolding Ah Quindi sì Dovrei... Dovrei fare così Basta tenere premuto quello per abbassarsi Per scendere da queste scale Chiamiamole così Scale di fortuna Per una figata pazzesca una cosa del genere Non lo sapevo Per fortuna me l'hanno spiegato Almeno ora lo sappiamo Lì intanto carrelli che passano Questa mappa è veramente fighissima eh però E' veramente veramente strafiga sta mappa Allora c'è del ferro qui Poi c'è... Eeeh... Del carbone Del... Dei lapislazuli Oro Diamanti Qui dovrebbero essere rubini Esatto Smeraldi scusate Smeraldi Perchè rubini Smeraldi Quegli sono Redstone invece ok Noi invece qui che... Ehm... Ok Non è partito? Non doveva partire? Perfetto Aspetta provo a prenderli No! Di fila! Non sembra funzionare Mmm... Qui c'è qualcosa che non cosa allora Vediamo un po' se riesco a capire Che cosa dobbiamo fare esattamente Forse... Ma illumina quando passa il carrello? Ma è la figata! Bellissimo! No aspetta 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 Aspettate un attimo Allora... Qui c'è... Eeeh... Un carrello Con della dinamite Però non si smuove E sotto tra l'altro Non vedo pulsanti Per farlo andare Tipo Redstone Ma sono la I pulsanti quelli Anzi Il... Perchè sei mosso? Gattino! Perchè hai fatto muovere il carrello? Ora gli ho dato io il via definitivo Da qualche parte andrà? Non ne ho idea ma... Dovremmo andare a pro... Gattino seguimi! Mi segua gattino! Venghi... Venghi con me gattino! Venga con me! Che proviamo a vedere se lo... Spaparanziamo da qualche parte! Esplode tutto! Sembra di no! Quindi... Scusi gattino mi segua? Che devo risalire? Perchè... Presumo che quella... Mh... Specie di... Cosa? No! Oh mamma mia se mi ero visto male! Mamma mia se mi ero visto male! Allora calma e per piacere! Di qui si esce! Ah è qui arrivato! Aha! Allora ok! Io gli do un'altra spinta! No no no! In avanti! Ok! Vada! Vada TNT! Vada! Se ne vadi TNT! Vada vada vada! Prego! Passi pure TNT! Si ferma sempre... Ah! Nella parte sbagliata! No! Ti ho visto! Marrano! Testa piena! Ma non c'è il danno maggiorato magari da headshot o qualcosa del genere? Era carina come cosa! Voi! Uno! Due! Tanto abbiamo frecce a profusione! Penso si sciuperà prima l'arco delle frecce! Quindi vai pure! Scusi gattino si sto... Si sposti! Sempre nei posti dove non devono stare sti gatti! Ehm... Credo che riesca di là adesso! Esatto! Ora... No! Non si fanno ste cose! Gattino! L'avevo visto male per un attimo! L'ho visto veramente male quel gattino! Ok! C'è Ossidiana! L'importante che... Baby! Ciao! Mamma mia che postaccio! Vieni qui con me baby! Vieni con me che ti porto fuori! Va! Seguimi! 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 Che là c'è un postaccio veramente brutto! Il gattino ha problemi tecnici di incastramento! No! Per fortuna si è scastrato! E' andata bene! Vieni con me che ti porterò lo zookeeper! Vieni! 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 Vieni baby! Bellissimo anche questa parte! Comunque! Mi è piaciuta veramente tanto! Fatta veramente bene questa mappa! C'è poco da fare! Tra l'altro mi avete chiesto se porterò altre mappe! E si! A questo punto lo farò! Perché vedo prima di tutto che vi piacciono! Che vi divertite insieme a me! E io mi sto divertendo un sacco a farle! Quindi si! Ne porterò altre di cose diverse! Però le porterò! Ora! Lo zookeeper è di là! Quindi vieni con me baby! Che almeno ti riporta direttamente a casetta lui! E io nel frattempo andrò a cercare! Come on little guy! I'll take you back to the jungle safari! E altro orsetto! Anzi! Perché orsetto lavatore? Altro panda! Portato a casa sano e salvo! Per fortuna è andata bene! Quindi! In via del tutto teorica! Questa zona noi l'abbiamo esplorata ben benino! Credo! Qui c'è una sbarra! Perché non ci fanno passare? Dannazione! Forse ce ne andiamo qui! Ma si posso passare attraverso? Anche no! Ma io do da mangiare sì a te! Poi do da mangiare a te! Se ti riesco! Perfetto! Almeno! Mi seguite! Benissimo! No! Alzati! Rialzati! Ok! Perfetto! Quanti siete? Ma hai fatto il gattino! Avete fatto il gattino! Marrani! Ok! Proprio mentre ero davanti a voi! Vabbè! Comunque! Lasciavo perdere! Anzi! Ora che hanno la famigliola! Ah! Stavo per dire! Ora che hanno la famigliola! Mi snobbano! Altamente! Mi ne frega più niente le sottoscritte! Invece no! Ok! Vengono tutti insieme! Spero! Qui c'era il cavallino! Che a questo punto direi di prendere! E! Io dovrei arrivare a qualche altra zona! Qui del luogo! Che non so quale sia francamente! Tipo! Sto ponte! Questo ponte è quello del deserto! Quindi è da dove siamo venuti! Forse! Ah! C'è la mappa! C'è la mappa! Seguiamo la mappa! Allora! Questa l'abbiamo fatta! Questo l'abbiamo fatto! Manca il rosso! Credo! No! Il deserto l'abbiamo fatto! Il creepy l'abbiamo fatto! I verdi l'abbiamo fatto! Manca il viola! Quindi devo tornare indietro dalla mega rotonda! Devo fare la rotonda al contrario! In pratica! Ok! Ho appena trovato le strisce! Quindi le strisce! Quindi le devo seguire! Fino a ritornare verso casa! E andare al viola! Perché io ne ho trovati 5! In effetti! Ne manca uno solo! Andiamo a trovare il viola! Perché! Ve lo ricordate! Mi sembrava esserci provato ad andare! Già una volta! Ma non riuscivo a trovare lo zookeeper! Qui del viola! Perciò! Era quello dove c'erano i lupi cattivi! E' vero! Che c'erano anche gli orsi! Che c'era un po' tutto qui! Menchè lo zookeeper! Che lo vedo adesso però! Attenzione! Attenzione qui sotto! T'ho visto bello! Aha! Allora! 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 Si! Ma come? Ok! Potremmo usare un po' di scafondi! E creare un po' di ponte! Ah! Buono! Quindi possiamo creare dei ponti! Perfetto! Con questa roba! Bene così! Prendiamocene il più possibile! Almeno ci sono problemi! Ehm! Ah! Ma si ricreano questi? Nooo! Bellissimo! Quindi lui li ricrea! E' una zona che ricrea cosi! Ricrea questi blocchi di legno! Perfetto! E' una specie di farm! Questa! Allora! Mogani visto che quassù! Tra l'altro lui si è arrampicato su questi... Questi alberelli! Era quassù! Si è arrampicato su questi alberelli! Il problema è che ha fatto arrabbiare anche diversi lupacchiotti! E' per quello che c'erano dei lupi arrabbiati! Vicini! L'altra volta! Ora ho capito perché! Vediamo un po' intanto di... No! Io volevo fare un'altra cosa! Volevo fare questo! Non lo posso più rompere? No! Ok! Ehm! Allora! Prima di ritornare a prendere Mogani! Io volevo... Creare dei ponti tra queste strade! Così almeno... Così vogliamo di sotto prima? Puntate un po'! Dai! Arrivaci! Donazione! Non ci arriva! Come faccio? Come faccio qui a creare un ponte tra queste strade? Maledizione! Questo è un problema! Allora Mogani intanto vieni con me! Vieni con me un attimo! Non cadere di sotto! O meglio! Se cadere di sotto fai un piacere a tutti! Almeno poi... Ti porto direttamente da Lozuki per essere a posto! Ora! Qui io come faccio a... Vabbè! Facciamo al contrario! Facciamo così! Ok! Da qui dovrebbe arrivarci! Vai così alla grande! Mogani non mi tirare spinte per favore! Non mi spingete di sotto! Ah! Vuol dire che quindi più di 5 alla volta non ne possiamo mettere di queste senza avere un pilastro a terra! E' interessante perché questo... Questa mappa praticamente fa anche a tutti gli effetti da tutorial! Quindi... E' una figata pazzesca sta cosa! No 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 no! Alzati! Alzati! Vole... No! Volevo accucciarmi di lato! Ecco! Ok! Poi volevo... Vabbè! Facciamo così! Che va bene lo stesso! Perché prima me lo faceva adesso non me lo fa più! Vabbè! Se funzioni fa lo stesso! Non è che mi serva più di tanto! Ok! Da qui ci dovrei arrivare! Benissimo! Facendo così! E poi così! Così! Non così! Gattino! Vabbè! Dovrebbe funzionare credo! Ma anche no! Sto funzionando! No! Non avete visto niente! Tutto regolare! Tutto nella norma! Allora! Proviamo un attimo a andare più avanti! Perché prima me lo faceva proprio bene la cucciata! Adesso non mi si accuccia più! Dannatissimo! Biliacco che non sei altro! Va bene anche così! Perfetto! Era quello che volevo! Era quello che volevo fare! Da qui! Intanto Mogani con la sua splendida aria intelligente! Ci sei! Mogani sei fantastico! Allora! Da qui io dovrei... No! Aspettate un po'! Che devo fare da qui? Devo stringere qua allora! E mi sa che è proprio l'unica cosa che posso fare! Non è che... Pensavo di collegare di là! Invece anche no! Devo fare un giro un po' più pesca! Un po' più largo! Wow! Ok! Qui mi ha preso la cucciata! Ogni tanto mi prende la cucciata e ogni tanto scende! E ogni tanto scende! Scusa gattino se ti ho dato... Una cassettata nel mento! Non volevo francamente! Meno male che ho preso un sacco di questi... Eh... Arnesi! Quanti... Quanto era alto! No! Quanto diamine era alto sto posto! No 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 no! Calma! 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 Ok! Da qui mi può andar bene! Perfetto! Ah! Quando c'è il vuoto sotto quindi non scendiamo giustamente! Perché io pensavo che scendessi anche quando c'era il vuoto! Quindi ho detto... Volete vedere che ora battiamo una craniata clamorosa! Anzi ci spacchiamo le gambe direttamente verso terra! Perché... No! Cosa guardi gattino! Lo so! E sono idiota io! Non ti preoccupare! Grazie per... Darmi una mano coi lavori eh! Mi raccomando gattino eh! Tu... Aiutami! Aiutami mi raccomando! Perché lo vedo proprio che sei interessato nell'aiutarmi! Che ne può fregare di meno! Guardate! Mi segue ma non mi aiuta manco morto! Perfetto! Allora! Tanto prendiamoci... Altre impalcature! E... Finiamo da qui a sto punto! Dovrebbe bastare! Esatto! Ehm... Lì ci sono altri gattini! E... Io qui credo di dover... Mogani! Ok! E' interessato a quello che sto facendo! Contento tu contenti tutti! Come si dice! No! Quanto c'è mancato che non volassi! Benissimo! Avevo dato per scontato che non sarei caduto! Mai dare per scontato Ale di non cadere specialmente tu! Se seguite le mie serie di Minecraft sapete perché! Non so quanti voi li ho fatto a caso! Però va bene! Perché a volte le ho fatte anche carine come cose! Dodo! Avevo quasi lasciato il tasto per accucciarmi! Quasi! Per fortuna ho fatto quasi! Perché altrimenti ero fregato! No! 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 Il degenero! Il degenero! Va bene! D'accordo! Ok! Va bene così! Ci siamo ormai! E... Io dovrei arrivare di là! E poi siamo arrivati praticamente! Guardate! Lì c'è lo zucchi! Per lì dovrebbe essere la zona in cui poi Mogani potrà ritornare verso casa! Ora il problema è un altro! Il problema è... Non cadete! Che ci sono dei lupacchiotti belli arrabbiati là sotto! Guardate! È sotto di me proprio un lupacchiotto eh! C'è da stare ben attenti a non volare di sotto! Perché altrimenti va a finire veramente male! Quindi questo dovrebbe cadere! Sto cercando di sviluppare questa impalcatura per poi arrivare direttamente agli alberi! Sperando che... Quel lupacchiotto adesso non salga! Io ci spero! Così ha funzionato! Mogani va da sé! Bravo Mogani! Mi stai simpatico! Sappilo! Mi stai parecchio parecchio simpatico! Io te lo dico! Faccio per fartelo sapere! Qui stiamo attenti! Ok! Da lì ci... Ah! Va bene! Me lo mette anche così! Quindi basta che mini nel vuoto davanti e si crea questa zona! Ok! Ditemi che non sale! Ah no! Si rompono! Ah! Interessante sta cosa! Avete visto? Sul legno normale praticamente si rompono le impalcature! O era perché era troppo alto? O è perché forse... Il gioco la gestisce in quel modo! Non saprei! Però ora lo scopriamo insieme! Ehm... Non lo so! Facciamo le impalcature anche di là! Ma perché no! Già che ci siamo! Perché no! No no! Qui! Ok! Perfetto! Dovresti poi andare ancora un po' avanti! Magari accucciati! Bravo ragazzo! Non così! Questo regge invece! Non si è rotto! Perché non c'è il legno sotto? C'è una cosa positiva! I lupi non stanno salendo! Per ora! Quanto staranno a salire? Questa è la domanda principale! Spero tanto! Perché qui ci siamo ora! Perfetto! Mogani dove sei? Mogani! Non mi buttare di sotto adesso! Ah! Li abbiamo portati tutti! Sì! Ok! Devo tornare praticamente al Jungle Safari! Ci ha detto che le impalcature sono molto utili eh! Eh sì! Effettivamente lo sono! Lo sono state parecchio! Perfetto! Allora! Perché l'altra volta? Io non l'avevo proprio visto l'altra volta! Allora! Il tizio sotto le Lozuki! Giustamente! Sia mai che io veda qualcosa eh! Comunque! Comunque! Noi! Io! Ora! Dovrei tornare! Noi dovremo tornare! Allo Zuu Safari! Ora il problema è! Allo Zuu Safari! Dove diamine era? Qui c'era il gatto nero! Dannazione! Da dov'è che siamo venuti? Che non me lo ricordo! Questo è un problema! Problema enorme! Oh! Di qua siamo venuti? Ma anche no Ale! Ma anche no! Cavallino! Segui quello che ti dico ogni tanto! Per sbaglio! Allora! Vediamo un attimo la mappa! La mappa ci dice che io devo andare di qua! Che non l'ho vista ma me la sono ricordata! Perfetto! Era importante tutto ciò! Più che altro perché qui ci sono ancora i lupacchiotti assassini! Da qualche parte! Che sono cattivissimi! Ah! Quindi manca Loaf che è lì però! È a casetta nostra! Guardate! È nella nostra casa! Vedo il nome lì a casa nostra! Perfetto! Allora andiamo a cercarlo! Cioè andiamo a beccarlo anzi! Più che a cercarlo! Poverino! Si era... Si era nascosto da noi! Che carino però! Ok! Perfetto! Andiamo un po'... Ciao Loaf! Eh si! Grazie! Grazie! Thanks for playing! The jungle temple's door has been opened! Perfetto! Oddio! Che pensavo di essere volato di sotto! Quindi ora abbiamo aperto il tempio... Della giungla! Cast time out! No aspettate un po'... 6 di 75! In che senso? Cioè praticamente ci permetterebbe di andare a... Vedere che c'è nel tempio? Allora facciamo così ragazzi! Farò un episodio supplementare per vedere prima di tutto il platforming di cui parlavate! E poi per andare nel tempio a esplorarlo e vedere che c'è all'interno! Quindi per questo episodio di Minecraft Catastrophic Pandemonium o Pandastrofe o quello che volete Pappagallandia o quello che volete ci salutiamo qui! Ci rivediamo domani con il prossimo episodio! Io vi ricordo se vi fa di condividere questi video sui vostri social! Di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto! E alla prossima! Ciao!